Ma finora è il comune, la città che è riuscito a liberare la cassa. Stiamo lavorando con grande determinazione col governo, quindi prima della pausa estiva il tema va risolto. Questo è l'obiettivo che ci auguriamo di raggiungere. L'ho detto più volte in questi giorni, stiamo impegnati su tanti tavoli delicatissimi. Gli enti locali, i comuni in predissesto, il CR8, il Bagnoli, il patrimonio immobiliare. Veramente è un lavoro enorme che si sta facendo. È un lavoro davvero enorme, difficile e complicato in un contesto difficile, però i risultati si stanno attuando e si stanno avvicinando a altri come questo del CR8. Lei ha citato Bagnoli, ci sono una vita? Bagnoli stasera facciamo una riunione importante, voglio dire decisiva al nostro interno, ma lavoriamo sui dettagli, stiamo nella fase dei dettagli, quindi questo è un buon segnale. Prima di chiudere bisogna fare un'informativa al Consiglio, parlare col territorio, fare passaggi rapidi ma importanti e completi. Io sono ottimista perché ho visto l'ultima stesura, si sta facendo veramente un gran lavoro, però il risultato definitivo sarà l'esito dell'incontro finale che poi dovrò avere anche col Ministro e dobbiamo poi verificare se c'è un accordo pieno, come credo. Noi stiamo lavorando veramente tanto e stasera c'è l'ultimo incontro che faremo stasera sul Tardi qui al Comune, a Palazzo San Giacomo, per lavorare su alcuni aspetti ancora che bisogna chiarire per poi sottoporli al Governo, se c'è l'accordo poi si farà l'informativa con la città, completa, in modo che tutto alla luce del sole, per poi andare alla volata finale per la firma. Noi vorremmo chiudere tutto questo per fine luglio.